ci troviamo all'interno della stabile dell'orto botanico dove Mirko non ha ancora mangiato come me e stiamo allestendo per voi i quadri ma ci siamo all'ultimo momento però va bene adesso facciamo una breve panoramica di quello che sarà una musichetta cosa possiamo mettere come musica si ma c'è una buona definizione ovviamente tutta la disposizione non è stata messa a caso ma sta seguendo una logica ben precisa che è quella che ci ha devastato soprattutto a Mirko dove si può vedere la location dove si metteranno i tavoli si poi esco fuori questo è il bagno lasciamo perdere verrà chiuso ma l'hanno chiuso e però è morto certo aspetta riprendiamo anche questi e riprendiamo anche questi qua dietro si ringrazio anche mia moglie che mi ha lasciato fare questa cosa qui di domenica l'ho lasciata da sola l'ho lasciata da sola permesso no mi ha dato il permesso dove è fuori adesso andiamo fuori da fuori ci stiamo avvicinando a dove verranno esposti sia ai quadri ma dove si verrà fatto il rinfresco all'esterno ovviamente sotto il gazebo perché non si sa mai che piova guardate che bello guardate che bello speriamo che il tempo sia clemente ok